E lo dico da persona che all'opposizione non si è mai permessa di dire una cosa del genere avendo fatto pure, come si sa bene, un'opposizione molto dura. Perché ci sono delle cose che per me vengono prima del resto. L'interesse nazionale italiano per me viene prima degli interessi di partito. Certo, il Presidente Casini lo diceva, no, non sovrapponga i ruoli, non intendo sovrapporre i ruoli. Io sto sostenendo una tesi per quello che secondo me è il bene dell'Europa. Perché se noi accettiamo delle logiche nelle quali ci sono delle debolezze in patria, i cui conti si saldano usando le istituzioni europee, ci facciamo molto male. E ci facciamo molto male particolarmente in questo contesto. Penso che dobbiamo uscire un po' dai nostri confini, perché le nostre micro, mi passi il termine beghe, non facevano danni finché eravamo in pace, quando eravamo in un altro contesto. Grazie. Grazie.